Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi un'altra partita blitz, un'altra perla dal San Luis 2020 con protagonisti Karzen e Grishu. Una bella partita anche dal punto di vista teorico perché parleremo della Ragosin. Partiamo! Magnus Karzen con i pezzi bianchi apre la partita con D4 e Alexander Grishu che risponde con cavallo in F6. Cavallo in F3, D5, C4, E6, cavallo in C3 e quindi siamo tornati nel gambetto di donna. Ma adesso con alfiere in B4 che attacca e d'inchiola il cavallo arriva la Ragosin. Cito adesso alcune frasi dal bel libro di Richard Perth su la Ragosin. Questa variante prende il nome dal grande maestro lusso Vyacheslav Ragosin, vissuto nella prima metà del Novecento. E questa mossa di alfiere invece che alfiere in E7, alfiere in B4 è una risposta molto dinamica. Quindi con questo alfiere campo scuro che non soltanto si sviluppa ma va proprio ad attaccare. E per certi versi la Ragosin ha temi anche similari alla Nimzo indiana. Ma per moltissimi anni è stata considerata un'apertura un po' oscura. Con l'avvento invece dei computer, tantissimi tra i top players l'hanno studiata a fondo, oltretutto con ottimi risultati. Una delle varianti principali adesso per il bianco è il cambio dei pedoni in D5. Infatti Karzen giocherà C per D5, il pedone ricattura. Con questo cambio il bianco ha voluto chiarire subito la posizione di questi pedoni al centro, prima di continuare con lo sviluppo. Adesso arriva alfiere in F4, questa è una variante che Karzen ha già giocato molte volte anche quest'anno. Ha vinto delle belle partite contro Firuja e contro Anand. E naturalmente il nero ha tante risposte a disposizione. Quella che sembra più solida, quella che porta a posizioni più controllabili per il nero è C6, con l'idea poi di portare questo alfiere in F5. È quella più solida, non quella più forte. Grishuk giocherà cavallo in E4, che sicuramente dal punto di vista teorico è la risposta più ambiziosa. E qui adesso il cavallo è due volte sotto attacco, c'è anche il problema della forchetta. E quindi il bianco deve proteggerlo con torre in C1. Interessante a questo punto, sempre dal punto di vista teorico, anche il cambio alfiere su cavallo. Perché naturalmente il bianco dovrà ricatturare col pedone e il nero lascia la torre, questa torre bianca, sulla colonna sbagliata. Invece che sulla colonna B, sulla colonna C. Però poi è tutta da studiare perché naturalmente poi il bianco si ritrova con la coppia degli alfieri. Invece Grishuk continua con la continuazione principale, che è cavallo in C6. E adesso la risposta di Carlsen, ben studiata, è la migliore, ed è cavallo in D2. Cavallo in D2, questa va studiata perché, torniamo indietro di una mossa, una mossa che sembra a questo punto naturale è l'avanzata del pedone in E3, ma andiamo a vedere che questa mossa così naturale porterà qualche problema al bianco. Andiamo velocemente a vedere questa variante. Dopo E3 c'è l'immediata G5, adesso l'alfiere è sotto attacco e si sposterà in G3 oppure in E5. Andiamo a vedere entrambe, dopo l'alfiere in G3 c'è H5 con l'idea di H4 ed il nero ha preso l'iniziativa. Dopo G5, se l'alfiere si sposta in E5, c'è il cambio, l'alfiere che cambia in C3 con scacco, il pedone ricattura, abbiamo detto la torre è mal posizionata, arriva F6 che rispingerà questo alfiere in G3, H5, il nero arroccherà lungo in questa variante e sembra proprio che stia un po' meglio del bianco. Ritorniamo invece a noi, dopo il cavallo in C6, il cavallo in D2 non avendo giocato E3, adesso dopo G5 giocata da Grishuk, l'alfiere si può ritirare direttamente in E3. Quindi alfiere in E3, cavallo per cavallo in C3, il pedone B ricattura, l'alfiere è sotto attacco. Dove andare a mettere questo cavallo? Grishuk sposta come Giri che aveva vinto contro Karzen, questo alfiere in A3, invece secondo me, poi naturalmente tutto è giocabile, invece secondo me è meglio subito ritornare indietro con l'alfiere in D6, perché questa mossa spinge la torre sulla colonna buona, infatti la torre si sposta in B1, adesso arriva F5, l'idea naturalmente è di continuare con F4 e vincere e intrappolare l'alfiere, quindi arriva G3 a controllare la casa F4. Anish Giri in questa posizione aveva giocato probabilmente la mossa migliore, che è il ritorno dell'alfiere in D6, Grishuk invece continua con arrocco corto. Ma qui arriva la novità di Karzen alla mossa 13, F4, perché contro Firuja, perché contro Giri ormai la partita non è più la stessa, non sta più seguendo le mosse della partita contro Giri, contro Firuja, partita vinta da Karzen, Karzen aveva giocato donna in B3 con tempo, mentre invece arriva F4 direttamente, la donna nera si sposta in E7, questa mossa è intelligente perché attacca l'alfiere che è indifeso e costringendolo a spostarsi dopo il cambio in F4, il bianco non potrà più ricatturare quell'alfiere andando a piazzare l'alfiere su una bellissima diagonale, quindi dopo donna in E7 l'alfiere è costretto a spostarsi in F2 e adesso il pedone G cattura in F4. Prima di ricatturare arriva un'intermedia fortissima, che è l'alfiere in G2, adesso non soltanto minaccia il pedone in difeso, ma minaccia di catturare con scacco, e quindi cosa fare in questa posizione? Questo veramente forse è il momento critico della partita, perché bisognerebbe andare a difendere il pedone, andiamo a vedere la linea che probabilmente è la migliore per il nero, che inizia con alfiere in E6, e se guardate il colore delle frecce capirete subito che Grishuk non l'ha giocata, dopo alfiere in E6 che protegge il pedone, il bianco ricattura e apre questa colonna G sul re nero, però qui c'è alfiere in D6, il pedone sotto attacco, quindi il bianco giocherà E3, il re si sposta in H8, e qui c'è da valutarla bene questa posizione, perché posizione molto dinamica, dove il bianco potrebbe anche non giocare a rocco corto, perché questa torre sta benissimo sulla colonna G, e nel caso che il bianco arroccasse corto, poi dovrà usare altre due mosse per portare con la prima il re in H1, e con la seconda la torre sulla colonna G, ma perdendo questo tempo darà tempo al nero di riorganizzarsi. Ma Grishuk non gioca a questa variante, perché probabilmente a lui non piace questa colonna G aperta, ma che potrebbe anche lui andare a contestare con le sue torri. Ritorniamo alla partita, al momento critico, alfiere in G2, Grishuk lascia il pedone in presa, alfiere in D6, e quindi Karsen cattura in D5 con scacco, il re si sposta in H8, e adesso arriva il salto di cavallo in F3. Con cavallo in D8, l'idea è buona, perché il cavallo si toglie dalla colonna C, per far giocare C6 con tempo, stranamente il computer, per il computer, il cavallo andava portato in A5, in A5 pare brutto, perché il cavallo sul bordo sembra quasi fuori proprio dal gioco, e come si dice da noi, il cavallo sul bordo diventa asino, ma almeno, io credo che l'idea del computer sia quella, che il cavallo, sì, non sta messo bene, ma almeno ci si poteva concentrare sullo sviluppo degli altri pezzi. Invece il cavallo in D8 andrà spostato immediatamente, perché come minimo, interferisce con le due torri. Quindi dopo il cavallo in D8, la donna bianca si sposta in D2, arriva C6 come previsto, l'alfiere si sposta in B3, e bisogna rimuovere il cavallo, perché in D8 è fastidiosissimo, cavallo in E6, che va con l'aiuto dell'alfiere anche a proteggere il pedone F4, ma guardate un po', adesso arriva D5, e bisogna catturare, C per D5, l'alfiere ricattura, c'è anche questo B7 sotto attacco, F per G3, H per G3, e qui la situazione si fa proprio brutta, perché se a Grishuk non piaceva la colonna G aperta, che almeno lui con la sua torre poteva contestare al bianco, figuriamoci adesso con la colonna H aperta, dove è solo la torre bianca a dominare questa colonna. Quindi, situazione veramente problematica, arriva F4, G per F4, l'alfiere ricattura, attacca la donna, ma la donna si sposta in D3, si sposta in D3, su casa bianca, un nuovo attacco, scusate, sulla casa, non sulla cosa, sulla casa H7, e la donna su case bianche, per ora è inattaccabile, perché Grishuk, è terribilmente indietro di sviluppo. Adesso arriva torre in F7, questa mossa va giocata per forza, per proteggere non solo H7, ma proprio l'intera settima traversa, torniamo indietro di una mossa, facciamo una mossa neutra, andiamo a vedere la pericolosità di questa posizione per il nero, se il nero non gioca torre in F7. Quindi, torniamo indietro di una mossa, giochiamo una mossa neutra, che non fa niente, ma che non crea ulteriori danni, abbiamo alfiere per cavallo, l'alfiere ricattura, alfiere in D4 con scacco, e il re si deve spostare sulla colonna aperta, c'è torre in G1 con scacco, questo re è spostato in avanti, re in F7, torre in G7 con scacco, protetta dall'alfiere, e la donna nera se ne va. Quindi vince la donna. Ritorniamo quindi alla nostra partita, quindi torre in F7, mossa che andava giocata per rimanere in partita, ma adesso Karzen porta in gioco la seconda torre, torre in B4, l'alfiere si sposta in D6, ma lascia libera la torre di portarsi e di raddoppiare i pezzi pesanti sulla colonna H, e adesso il re scappa in G8. Il cavallo in D4 attacca il cavallo inchiodato, la donna si sposta in F6, quindi c'è anche la minaccia di cattura con scacco in F2, ma Karzen può già andare a semplificare. Il cavallo mangia in E6, Grishuk ricattura di alfiere, fermiamoci un attimo, ritorniamo indietro di una mossa, perché questa è la migliore ricattura, perché invece andare a catturare il pezzo con scacco, anche se molto allettante è peggiore, andiamo a calcolare un attimo, dopo donna cattura in F2 con scacco, c'è il re che si sposta in D1, la donna deve ritornare indietro, probabilmente tenterà il cambio donne, ma arriva torre in G1 con scacco, il re in H8, e adesso torre cattura in H7, la torre non può essere la torre che cattura, perché sennò la donna rimane impresa, quindi sarà la donna a dover ricatturare, donna in D4 con scacco, la torre si interpone, ma non solo è sotto attacco, è pure inchiodata, il cavallo mangia, e guardate qui, qui ci sono talmente tante linee, che si capisce che qui la posizione è disperata, disperata perché c'è l'attacco a raggi X contro il re, il re non si può muovere, la donna di fronte al re su colonna aperta, dove c'è la torre che si può spostare, e in pratica c'è già il matto forzato sulla scacchiera, la cosa migliore che può fare il nero è tentare di dare uno scacco con la donna, donna in B1 con scacco, il re si sposta in D2, la torre salva perché è protetta, un nuovo scacco da B2, il re si sposta in E3, non ci sono più scacchi, la donna va in B6 sempre per il cambio donne, ma non ce n'è bisogno, perché qui arriva torre in H1 con scacco, il re non si può muovere, niente può catturare la torre, ci si può soltanto interporre, ma interponendosi questi pezzi non sono difesi, alfiere in H2 e casca l'alfiere, casca anche il secondo alfiere, alla fine donna in H6 con scacco, casca anche la donna, torre cattura donna in H6, scacco matto, quindi ritorniamo a noi, dopo la cattura di cavallo, Grishuk riprende di alfiere, che è l'idea migliore, ma qui arriva donna, scusate arriva alfiere in D4 che attacca la donna, l'alfiere si interpone, ma c'è torre in H6, che attacca il difensore, e in questa posizione, alla mossa 30, il nero abbandona, lui abbandona ma noi al solito continuiamo, andiamo a vedere come si sarebbe conclusa dalla partita, e qui naturalmente il nero deve salvare la donna, donna in F4, sembra una tra le case migliori, arriva torre in G1 con scacco, il re si sposta in H8, l'alfiere bianco cattura in E5 con scacco, la donna nera ricattura, l'alfiere protetto dalla torre, cattura l'alfiere e abbiamo la torre sotto attacco, e la torre sotto attacco si dovrà spostare, torre in E7 o torre in G7, non fa differenza, andiamo a vedere velocemente con torre in E7, non fa differenza, perché dopo che la seconda torre si porta sulla colonna H, non c'è più difesa, non c'è più difesa perché naturalmente la torre non può catturare l'alfiere, lasciando la difesa di H7, quindi sarà la donna che dovrà aggiungere una difesa a questa casa H7, andiamo prima a valutare donna C7, donna C7 è sicuramente la peggiore delle alternative, perché lascia libera la diagonale, e quindi qui arriverà donna in D4 con scacco, torre in G7, ma la torre cattura e dà scacco matto, perché questa torre è inchiodata. Ritorniamo a quando abbiamo detto che qui praticamente con il raddoppio delle torri non c'è più speranza, andiamo a valutare donna invece in G7, donna in G7 c'è donna in F5, il nero può anche dare scacco con donna cattura in C3 con scacco, il re si sposta in F2, un altro scacco di donna da D4, ma arriva E3, donna in B2 con scacco, il re si sposta in F3, sono finiti gli scacchi, ci troviamo in una situazione super giù, simile a quella precedente, perché la donna dovrà rientrare in G7, arriva la cattura di torre in H7 con scacco, naturalmente il nero deve catturare di donna, ma qui non c'è da cambiare le donne, c'è da dare uno scacco. Donna in E5 con scacco, quindi la donna nera è persa, ma c'è già il matto, perché si deve solo interporre la torre, torre cattura la donna in H7 con scacco, è solo il re che può catturare perché la torre è inchiodata, e donna in H5, è scacco matto. Quindi un altro attacco fortissimo creato da Karsen, che spazza via dalla scacchiera, giocatori fortissimi come Grishuk, con una facilità disarmante, quindi proprio un campionissimo al top della forma, spero veramente che questa partita vi sia piaciuta, come ha scritto uno dei nostri in un commento, queste sono vitamine mentali, per farci ripartire nella nuova settimana, non scordate il like al video, perché questo algoritmo di Google lo considera molto, e soprattutto non scordatevi di iscrizione al canale, perché oggi abbiamo preso le vitamine, domani con un nuovo video, ci toccano proteine e minerali, per diventare sempre più preparati, sempre più forti, su da scacchiera. Un caro saluto, e naturalmente a presto.